Sì, ma infatti io dico, sai che quando sono andato da mia madre, io ho detto... Mia madre diceva, beh, si salta sempre la generazione, prima c'era il nonno, te niente, poi c'è il figlio. Sono stato sempre figlio di Vittorio De Siga, adesso diranno sono il padre di Brando De Siga. Lo vogliamo vedere? Ciao papà, come va? Ciao papà, sono qui per parlare di te, sono molto emozionato per questo, spero di essere giusto. È stato un papà molto presente, nonostante il lavoro che lo ha portato più di una volta a viaggiare all'estero. Penso che il primo film che vidi fu La notte delle morti di Venti. Il papà tornò con una VHS della notte delle morti di Venti di Giorgio Romero. Rimasi scioccato, mia madre si incazzò moltissimo. Dopo ci riprovò con l'esorcista, fu anche peggio. Un giorno mio zio Manuel mi portò un autografo di Christopher Lee. Da lì in poi, ogni giorno quando andavo all'elementare, mio padre mi doveva truccare da Dracula. Perché io veramente da la prima fino alla quinta elementare, spessissimo andavo in classe con il mantello. Un po' sembrava una follia, ma era vero. Terrorizzavo i miei compagni di classe, ero contento così, dovevo avere quel mantello. Abbiamo visto un sacco di film horror. Però questo è stato un pregio perché è il genere che oggi a me piace di più, l'horror e il thriller. Spero di riuscire a fare un buon horror e un buon thriller come opera prima da regista. Mio nonno è del 1901 e se anche mio figlio deciderà di far parte di questo mondo, Beh, noi potremmo dire come per una cioccolateria, come per un pastificio. Ecco, qui si fa cinema dal 1901. È una tradizione. E tramontare il proprio lavoro come fa un artigiano a suo figlio. È bellissimo. Brando. Sei commosso? Beh, è la terza generazione. Lui, se io sono stato figlio d'arte, lui poverello è messo malissimo. Nipote d'arte. Lui tutto. Ma è bravo, è bravo. Sta a girare molto bene. Ha fatto dei corti e adesso poi ha girato quella cosa per me. Teatrale, parlami di me. Insomma, adesso sta scrivendo un paio di sceneggiature, si sta facendo le ossa con piccoli cortimetraggi. Vuole fare il regista. Certo, a me e la madre ci trebano nei gambe perché, insomma, sai, questo è un mestiere costruito sull'acqua. Quindi, come tutti i genitori, se abbiamo paura, almeno io vorrei che non avesse tante delusioni. Perché le mannaiate che ho preso io, se ecco, io ripenso a tutto quello che ho dovuto fare e che dovrà fare lui, dico, mamma mia, poveraccio.